Buongiorno a tutti, vi ringrazio di chi è qua che non è andato a dormire in questa giornata dal 2 di luglio, quindi è una giornata storica perché stasera c'è anche l'Italia e Germania. Proviamo a fare l'avventura, la conferenza e poi il mio amico pretendo per rire c'è ma forse troppo, c'erano le 10 invece che l'avventura in contemporanea in Italia e Germania. Quindi i temi che trattiamo sono temi fondamentali, quello che c'è è il successo che è la uscita dell'Inghilterra e della comunità europea, però ci sono dei temi che ci interrogano molto forti, il primo è il referendum di Ottobre, la legge elettorale si è cambiata o meno, e poi ci abbiamo degli interlocutori che sono di primissimo piano a livello nazionale e vi ringrazio, ringrazio iniziato da Gianluca Peniamatti, Enrico Rossi, poi ci abbiamo Antonella Zancaro che è una delle migliori giornalisti qua che abbiamo a Moro anche a livello regionale e nazionale, abbiamo Antonella Zancaro che ringraziamo e Andrea De Maria che è un po' padrone in casa. Quindi grazie a tutti, io darei subito la parola A. Voglio dire anche che si può intervenire perché qualcuno mi dice allora siamo sempre intervenuti, quindi non è mai stata delle conferenze chiuse, quindi direi che domande si possono fare anche perché non è che è un consenso che qua se qualcuno non la pensa come noi arricchisce e quindi noi siamo contenti di questi arricchimenti, quindi do la parola a Antonella e poi successivamente vediamo un po' come strutturare il lavoro. Ok, grazie a tutti e a prenderlo!